E' scritta ora a parlare la deputata dell'onora Cimbro che illustrerà anche la sua mozione 1.494. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Intanto, in premessa, vorrei ricordare che questa mozione è stata presentata il 1 dicembre 2016 in occasione della giornata mondiale contro l'AIDS insieme al collega, al senatore Mandelli, che ha presentato un'identica mozione al Senato che è già stata approvata e questo in occasione del lancio dei test per l'autodiagnosi dell'HIV richiedibile senza alcuna necessità di ricetta medica per le persone appunto maggiorenne. Quindi abbiamo utilizzato la giornata mondiale contro l'AIDS come occasione per il lancio di questo test che dal 1 dicembre 2016 appunto è disponibile nelle farmacie italiane. Questo è importante ribadirlo. Soprattutto perché l'autotest rappresenta uno strumento utile per far emergere il sommerso delle diagnosi tardive che portano in Italia a stimare tra le 6.500 e le 18.000 persone sieropositive non diagnosticate. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di raccomandare l'uso dell'autotest per l'HIV definendolo un modo innovativo per raggiungere più persone e contribuendo a realizzare l'obiettivo mondiale lanciato nel 2014 di rendere consapevole del loro stato il 90% di tutte le persone con HIV entro il 2020. Quindi questo è l'obiettivo principale. In Italia purtroppo solo il 43% delle persone è consapevole che per la cura efficace dell'infezione d'HIV bisogna agire il prima possibile. Nel 2015 sono state segnalate 3.444 nuove diagnosi di infezione d'HIV. Pare un'incidenza di 5,7 nuovi casi di infezione da IDS ogni 100.000 residenti. Questa incidenza pone l'Italia al tredicesimo posto tra le nazioni dell'Unione Europea, mentre le regioni con l'incidenza più alta sono state il Lazio, la Lombardia, la Liguria e l'Emilia-Romagna, come già ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto. Le persone che hanno scoperto di avere l'HIV nel 2015 sono maschi nel 73,4% dei casi. L'età mediana era di 39 anni per i maschi e 36 per le femmine. L'incidenza più alta è stata osservata tra le persone tra i 25 e i 29 anni. Riguardo alle modalità di trasmissione, diminuisce ulteriormente la proporzione di consumatori di sostanze per via iniettiva, mentre aumentano i casi attribuibili a trasmissione sessuale. Nel 2015 i casi attribuiti a trasmissione eterosessuale sono stati il 44,9% e quelli attribuiti a trasmissione tra uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini al 40,7%. Nel 2015 il 32,4% delle persone con una nuova diagnosi di infezione da HIV aveva eseguito il test HIV per la presenza di sintomi correlati, il 27,6% in seguito a un comportamento a rischio non specificato e il 13,2% nel corso di accertamenti per un'altra patologia. Sempre nel 2015 sono stati segnalati 789 casi di AIDS conclamato, pare un'incidenza di 1,49 casi per 100.000 residenti. L'incidenza di AIDS è in lieve costante diminuzione negli ultimi tre anni, tuttavia nell'ultimo decennio è aumentata la proporzione delle persone che hanno scoperto di avere l'HIV nei mesi precedenti la diagnosi di AIDS, passando dal 20,5% del 2006 al 74,5% del 2015. Crea allarme soprattutto il fatto che ben il 50% dei nuovi casi di AIDS era costituito da persone che non sapevano di avere la malattia. Il livello di consapevolezza dei rischi di contagio e la conoscenza dei comportamenti per evitare l'infezione sono drammaticamente bassi in tutta la popolazione e in particolare nelle persone più giovani. Una recente ricerca condotta a livello nazionale ha evidenziato che adulti e adolescenti sono disinformati o malinformati rispetto all'HIV. A titolo d'esempio solo il 5,2% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni sa che cosa sia l'intervallo finestra, informazione chiave per poter accedere correttamente al test per l'HIV e ancora oggi il 20% delle persone crede che l'AIDS sia la malattia dei gay o dei teossicomani. Negli ultimi anni è aumentato il numero delle persone che arrivano allo stadio di AIDS conclamato ignorando la propria seropositività per cui diminuiscono sensibilmente la probabilità di risposta positiva alle cura. L'ultimo dato disponibile indica una proporzione del 67,9%. Questi dati mettono in evidenza che l'HIV non è affatto un problema risolto, come qualche organo di comunicazione ha semplicisticamente riportato e come una lettura superficiale dei dati potrebbe far credere. La malattia infatti è ancora presente e fortemente in crescita in alcune specifiche popolazioni. Sarebbe un grave errore continuare a pensare che l'HIV sia una malattia che riguarda solo una parte ristretta della popolazione, come in effetti in gran parte è stato in Italia negli anni Ottanta. Il nostro Paese eccelle nella cura dell'HIV, ma risulta estremamente carente nella prevenzione sia per l'assenza di azioni informative rivolte alla popolazione, sia per la mancanza di un serio progetto di formazione in materia sanitaria delle giovani generazioni, in particolare in materia di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Appare ormai improcrastinabile l'esigenza di intervenire affinché siano programmate e sviluppate serie e concrete iniziative per la prevenzione e la cura efficace dell'HIV anche nel nostro Paese. Come istituzioni dobbiamo lavorare in questa direzione, favorendo azioni efficace e concrete come queste, parallele alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione, perché solo attraverso la corretta informazione medico-scientifica e non il passaparola molto spesso impreciso e prestapochista, insieme a strumenti di diagnosi e cura facilmente accessibile a tutti, che si può garantire una qualità di vita assolutamente buona e duratura alle persone affette da HIV, smontando il coriaceo pregiudizio che ancora ruota intorno a questa malattia. È necessario in particolare sviluppare progetti finalizzati ad approfondire il livello di riconoscenza della popolazione per evitare che persone non consapevoli di essere positive all'HIV ritardino involontariamente l'accesso alle cure con gravi rischi per la propria salute e anche ovviamente quella degli altri. Per tutte queste ragioni noi chiediamo al Governo di provvedere alla concreta attuazione del nuovo piano nazionale di intervento contro l'AIDS, allo scopo di facilitare l'accesso al test, garantire le cure contro la malattia, anche attraverso i farmaci innovativi e favorire il mantenimento in terapia dei pazienti, ad assumere iniziative per finanziare specifici interventi pluriennali relativi a prevenzione, informazione e ricerca sull'AIDS, ad assumere iniziative per inserire la lotta all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili nei programmi di studio per le nuove generazioni e sostenere l'informazione e il coinvolgimento attivo delle popolazioni più a rischio. Grazie. Grazie.